ciao fabrizio ciao a tutti ben ritrovati un carissimo saluto a voi come avete potuto notare siamo da queen car e siamo diciamo nella sede storica quella di pianezza ma in realtà dall'epoca da quando aprì la sede di pianezza di strada ne è stata fatta davvero tanta perché siamo arrivate a cinque indirizzi vero fabri sì esatto ricordiamo gli indirizzi pianezza via susa 52 torino corso grossetto 18 moncaieri corso savona 10 e carmagnola in via porino 6 e novità assoluta nuova apertura a torino in strada settimo 344 5 sedi sono davvero indicatrici del grande successo che qui in care è arrivata ad ottenere in primis potersi divertire a scegliere padri sì perché qui abbiamo mille auto in protoconsegna la voletta è nuova chilometro zero vetture aziendali vetture usate benzina diesel ibride elettriche tutte in protoconsegna mille autovetture solo per voi quindi mille vetture per voi e in più non vi imponiamo i tempi di attesa perché come diceva fabri qui si parla di pronta consegna ma oltre a ciò vi veniamo davvero tantissimo incontro permettendo a tutti voi di acquistare con facilità la vostra vettura perché qui le modalità di pagamento sono facili e personalizzate sì ricordiamo l'operazione evergreen risparmiate fino a 4000 euro avete capito bene 4000 euro quindi scegliete la vostra auto scegliete la vostra motorizzazione scegliete il vostro canone a partire da 99 euro al mese e se ancora non fosse abbastanza pensate che qui possiamo usufruire anche fino a 10.000 euro degli incentivi di rottamazione sì per il vostro usato che vale zero non andate a rottamarlo venite qui alla quick car può essere valutato fino a 10.000 euro a questo punto come santomaso vorremmo toccare con naso e andare a vedere le meraviglie di cui ci parli iniziamo subito tutta la gamma panda in protoconsegna chilometro zero oltre 4000 euro di sconto prontiamo a casa la panda 12.900 euro già con radio clima comunque molto accessoriata con 149 euro al mese oltre il 22 per cento di sconto parliamo di lancia ypsilon 1000 hybrid 1200 gpl pensate attenzione al prezzo 139 euro al mese ibrida gpl esenzione bollo chilometro zero protoconsegna tutta la gamma gip reneghe benzina diesel a partire da 199 euro al mese tutta la gamma gip compass hybrid in protoconsegna attenzione prezzo chilometro zero 349 euro al mese e abbiamo anche vetture aziendali a partire da 299 euro al mese tutta la gamma fiat tipo in protoconsegna chilometro zero vetture aziendali a partire da 179 euro al mese tutta la gamma stevio in protoconsegna a partire da 299 euro al mese tutta la gamma delle 500 x in protoconsegna benzina diesel sport a partire da 199 euro al mese tutta la gamma vetture panda aziendali con meno di 15.000 chilometri a 10.950 euro con l'operazione evergreen tutta la gamma stellanti citron e peugeot in protoconsegna peugeot 3008 chilometro zero diversi colori 4000 euro di sconto 299 euro al mese e volete delle vetture aziendali vetture di un anno con meno di 20.000 chilometri benzina diesel a partire da 259 euro al mese avete capito bene 259 euro al mese e abbiamo tutta la gamma citroen citroen c5 289 euro al mese citroen c4 grand space sette posti a partire da 239 euro al mese e citroen c4 in protoconsegna a 189 euro al mese tutta la gamma fiat panda gpl 149 euro al mese esenzione bollo tutta la gamma audi q2 in protoconsegna a 199 euro al mese e abbiamo anche in protoconsegna audi a1 s line 229 euro al mese bellissima ford focus aziendale a soli 199 euro al mese tutta la gamma opel in protoconsegna 1.2 benzina 1.4 benzina in protoconsegna a partire da 149 euro al mese ultimo pezzo opel corsa benzina pensate 129 euro al mese tutta la gamma mitsubishi space star in protoconsegna chilometro zero vetture aziendali a partire da 149 euro al mese tutta la gamma veicoli commerciali in protoconsegna fiat ducato passo corto passo medio e passo lungo in protoconsegna 30 per cento di sconto solo la queen car tua da 399 euro al mese tutta la gamma nissan cascai a partire da 169 euro al mese opel cross la benzina 179 euro al mese opel astra protoconsegna 169 euro al mese opel corsa vettura aziendale benzina 119 euro al mese toyota yaris benzina protoconsegna 179 euro al mese peugeot 208 in protoconsegna a 159 euro al mese e finiamo in bellezza con una bellissima renault clio benzina attenzione al prezzo 159 euro al mese fabri anche oggi abbiamo potuto dimostrare come queen car si meriti davvero il titolo di regina del risparmio perché qui con la formula evergreen e con gli incentivi di rotamazione quanto possiamo risparmiare con l'operazione evergreen risparmiate fino a 4000 euro quindi scegliete la vostra auto la vostra motorizzazione scegliete il vostro canone a partire da 99 euro al mese e allora mi raccomando non lasciatevi sfuggire queste tante anzi potremmo dire queste mille occasioni sì esatto mille auto solo per voi vi aspettiamo da queen car nel frattempo continuate a seguirci anche sui social e nel frattempo vi mandiamo un saluto carissimo da parte di auto occasioni di queen car di fabrizio e di federica